Salve a tutti ragazzi, io sono Salvatore e in questo vi vorrei fare il pronostico della partita di Ajax-Napoli. Il Napoli giocherà fuori casa alle ore 20.45 e per me sarà una bellissima partita perché il Napoli sta dimostrando che è una grandissima squadra pure nel campionato. Comunque nel mio pronostico il Napoli vincerà per 2 a 0 e saranno gli autori dei cuori saranno Quaraschelia e Raspadour. Comunque attendiamo domani questa bellissima partita e speriamo che il Napoli ci farà divertire, però che il Napoli segnerà più di 2 a 0 a me mi fa sempre piacere perché il Napoli fa piacere quando dà spettacolo. Comunque ragazzi adesso vi saluto e aspettiamo domani questa partita. Vi saluto, se vi è piaciuto questo pronostico, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e forza Napoli e forza a tutti i tifosi napoletali. Ciao